Mentre il centro-destra cerca il nuovo candidato in vertici romani, il centro-sinistra lo decide a Sant'Olcese. E così, Armando Sanna, ben trovato. Tanto buongiorno, dettore, buongiorno a tutti voi. Sì, domani ci sarà una tappa delle feste dell'unità che si stanno svolgendo su tutti i territori. Domani, non so se domani sarà il giorno decisivo per la scelta e per il nome del candidato, però in queste ore si sta lavorando tanto, si sta lavorando con tutta la forza di coalizione, e soprattutto si sta lavorando per definire quello che sarà il profilo. Domani avremo ospite insieme a tutte le forze politiche che oggi rappresentano il Consiglio regionale della Liguria, Consiglio regionale e di missionario dagli ultimi eventi che noi conosciamo e ci sarà, oltre a Andrea Orlando, ci saranno tutte le forze di opposizione. Quindi domani sarà un dibattito molto chiaramente importante. Di opposizione a Orlando? Di opposizione in Consiglio regionale, all'interno, quindi l'opposizione del Consiglio regionale domani sarà presente, il lavoro che abbiamo fatto in questi quattro anni verrà proprio discusso in una giornata. Non opposizionando voi, la vostra, presenterete risultati della vostra posizione in Consiglio regionale. Ma pensavo che tra correnti vi facevate domani la guerra. No, no, nessunanzi. È il lavoro praticamente, è la sintesi di un lavoro svolto in questi ultimi quattro anni all'interno del Consiglio regionale, un lavoro che si è basato molto sui temi e soprattutto su quel tema centrale che oggi è la sanità Ligure. Quindi domani sarà il momento anche di fare un rendiconto di questo stato. Faccio un attimo una precisazione. Siccome è probabile, visto che l'intervista è importante, che la vediate anche questo sabato, da questo momento in avanti Armando Sanna non dirà mai più domani, ma dirà questo sabato perché potrebbe essere oggi, se la vediamo domani questa intervista. Anche perché i temi che adesso cerchiamo di tirar fuori sono importanti. Per esempio, domanda dalle mille pistole. Ma questo sabato... Vedi che anche lei è cascato in quel tranello del domani. Orlando, sale sul palco della festa dell'Unità di Sant'Olcese e si presenta come candidato ufficiale del centro-sinistra, del campo largo, visto che lo stiamo aspettando da molte settimane? Guardi, la definizione del tutto sta avvenendo logicamente anche nei tavoli romani. Per un semplice motivo abbiamo altre due regioni importanti che stanno andando al voto, quale l'Emilia-Romagna e l'Umbria e la Liguria, che non era prevista da calendario di scadenza naturale. Oggi si trova, e sono anticipate, l'ultima domenica di ottobre. Quindi è fondamentale trovare la quadra insieme a tutte le forze oggi che rappresentano l'opposizione in Consiglio regionale e alle forze politiche che oggi vedono in una coalizione più larga possibile quello che ha l'obiettivo di dare un volto nuovo alla nostra Liguria. Quindi domani e in queste ore, soprattutto, in queste ore si sta portando avanti la definizione di quello che poi sarà il nome che guiderà la coalizione. Quindi le ore sono queste. Obiettivamente noi, dico sempre, soprattutto anche perché ora parlo un attimo di Partito Democratico, all'interno del Partito Democratico in queste settimane si stanno facendo tantissime consultazioni all'interno dei circoli, nei coordinamenti, e proprio la base dei nostri iscritti ha a gran voce chiesto che arrivi finalmente il nome del candidato. Per partire con la campagna elettorale e soprattutto per avere una figura col quale convergere per poi chiudere quello che oggi è un programma elettorale che deve per forza vedere quelle che sono le esigenze fondamentali dei nostri cittadini. Quindi il nome è importante, le ore si sta arrivando alla definizione del tutto, ma soprattutto è importante che si sia tutti coesi e trovare bene una definizione su quelli che sono i punti importanti per la Liguria. Già, perché poi comunque governare tutti assieme significa fare sintesi. Peraltro sulle candidature ormai ci siamo, bisognerà dirimerla alla questione. In partiti grandi e partecipati come il vostro è ancora più difficile, perché c'è tutta una base, ci sono un sacco di persone che ovviamente hanno capacità, qualità, avete avuto tanti presidenti di municipio, avete avuto personalità importanti. Sono 16 i candidati, 8 uomini e 8 donne, perché il PD ha deciso per la totale e completa parità di genere delle candidature e quindi diciamo che non è facile trovare la sintesi di questi 16 nomi. Si è aperta una situazione, io ho visto diciamo così ciò che è successo nei circoli dell'Alta Valpolcevera, quelli che diciamo fanno capo al suo territorio, nei quali si era aperta una polemica, poi la polemica magari rientra perché lei me la spiega meglio, però diciamo così era quasi sembrato che quei circoli non volessero la candidatura di Federico Romeo, presidente del municipio della Valpolcevera, quasi come se ci fosse un veto nei confronti di questa persona. È così? C'è il veto nei confronti di Romeo? Sta antipatico alla base Romeo? Assolutamente no, anzi io ringrazio, sono veramente felice che ci siano tantissime candidature, a differenza della volta scorsa che dico sempre che quando io mi candidavo nel 2020 è stato difficile chiudere una lista del Partito Democratico, oggi invece i cosiddetti nominativi che sono usciti all'interno di tutti i coordinamenti sono tantissimi e quindi ora verrà fatto un lavoro all'interno proprio della direzione per capire oggi quali saranno le persone che entreranno in lista e correranno per le prossime elezioni regionali. Però la cosa molto importante, sa cos'è, è che abbiamo dato voce al territorio, i territori hanno chiaramente voluto esprimere una volontà, io ringrazio tutti i territori perché io sono rimasto l'unico consigliere regionale di Genova, quindi in tutti i circoli il mio nome è uscito, quindi ringrazio perché è un premio un po' ai quattro anni di lavoro svolto in consiglio regionale seppur nei banchi dell'opposizione, quindi un lavoro molto difficile, però la cosa molto importante è che oggi abbiamo tantissimi dirigenti di partito, tantissimi iscritti che vogliono mettersi in gioco e questo fa ben sperare per questa campagna elettorale ma soprattutto anche per le prossime campagne elettorali. Per entrare nel tema della Valpolcevara io penso che quel documento che ho letto anch'io con grande attenzione c'è solo scritto due punti chiari, uno, le candidature territoriali, di non sovrapporre laddove si può le candidature territoriali per rappresentare quello con territorio e quindi oggi è importante rappresentare la Valpolcevara, una circoscrizione che oggi sta avendo i cambiamenti di natura urbanistici e infrastrutturali più grandi di tutta Genova, parlo dall'ultimo miglio, il tema della gronda politica e altre problematiche anche di natura sociale e quindi questo vuol dire che candidare delle persone che rappresentano il territorio è fondamentale perché queste persone hanno come dire la voce all'interno del Consiglio regionale e quindi chi verrà candidato o se verremo candidati tutti non vuol dire che uno esclude l'altro, anzi è proprio, secondo me è proprio la bellezza del nostro partito oggi avere persone di altissimo livello, il Presidente del Municipio sta facendo un grandissimo lavoro e quindi per quello si è chiesto all'interno di questo documento di continuare proprio quel lavoro perché è l'unico municipio del Partito Democratico oggi ad avere, l'unico municipio dei nove ad avere una guida al Partito Democratico e la grossa paura sarebbe quella di poter perdere questo municipio in caso la figura del Presidente entrasse in Consiglio regionale perché decadrebbe come oggi da normativa. da normativa molto chiara e vigente. Questo è stato fatto fare un parere pro verità. Anche perché questo problema è uscito all'interno dei coordinamenti ed è evidente che a tutela del Partito Democratico, prima di tutto, a tutela dei candidati è stato fatto fare un parere che era già molto chiaro ma obiettivamente andrà a toccare poi anche la stessa giunta delle elezioni regionali che sarà quella che poi notificherà e chiederà ai candidati come è successo a me se rimanere a fare il sindaco o viceversa come se regionale. Quindi io capisco che in un momento estivo dove tutti aspettano il candidato, dove forse le notizie sono anche poche, queste notizie sembra che all'interno del Partito Democratico ci sia la notte dei lunghi coltelli o viceversa uno contro tutti. Io non l'ho vissuto così, non ho mai risposto a nessuna intervista perché mi sembra una cosa normalissima, io invece sono contento perché quando c'è una lista di tantissime persone che vogliono entrare vuol dire che stiamo facendo un gran lavoro, vuol dire che il Partito Democratico è un partito che oggi ha la credibilità e sta costruendo la credibilità per tornare a governare. Per chiudere, la questione dei sondaggi che stanno circolando sui possibili nomi, è vero che quando la distanza è piccolissima il sondaggio è poco efficace nel determinarla, però sembra quasi che non sia Orlando l'uomo più gettonato dalla base del centro-sinistra. Direttore, non è facile come ha detto lei, tanto stiamo vivendo una situazione straordinaria e quindi quando le situazioni sono straordinarie sono difficili da individuare e anche gli stessi sondaggi sono difficili da andare oggi ad applicare sul campione delle persone che vengono ascoltate, punto primo. Punto secondo, quando quella forbici, come ha detto lei, è talmente sottile, io mi ricordo 2005, le azioni regionali, 2010, se lei si ricorda all'epoca i sondaggi sicuramente meno evoluti dopo 20 anni ad oggi, però è evidente che anche lì la forbici era di incertezza. Io penso che oggi quello che noi dobbiamo invece garantire e dobbiamo iniziare a parlare, quello io l'ho iniziato a fare come lavoro anche negli ultimi 4 anni, ma che stiamo facendo proprio alla base è costruire un programma chiaro, perché alle persone dobbiamo dire quello. Poi dopodiché una volta che si costruisce la lista del Presidente, ambedue i Presidenti, verrà rafforzata con le persone che rappresentano i territori e soprattutto una parte di società civile e di professionalità, perché io spesso dico quello, noi abbiamo bisogno di persone che siano a livello professionale all'altezza di portare avanti uno sviluppo di una regione e quindi sulla base di quello vedrà che i sondaggi cambieranno. Io faccio sempre un sondaggio, che è il sondaggio della strada, è il sondaggio di incontrare 10 persone e fare una statistica su quello che mi viene detto. Oggi abbiamo un'unica paura, che è la grande paura dell'astensionismo, è quella che dobbiamo combattere. Dobbiamo oggi dimostrare che la politica si prende la responsabilità di cambiare veramente. E quando io intendo di cambiare bisogna prendere delle posizioni, spesso, che non sono neanche popolari, ma che guardano al futuro della regione non da oggi a domani, ma da qua i prossimi 50 anni. Quello lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare con quel vecchio lavoro, come diceva lei, di mediazione della politica e soprattutto della politica che oggi torni a parlare con le persone. Armando Sanna, grazie mille per essere stato con noi, naturalmente in bocca al lupo, domani Santolcese. Sempre sabato, quindi, giusto direttore? Domani. Domani, sabato. Domani e oggi? Eh, fate voi. Se oggi è sabato è oggi, se invece oggi è venerdì è domani. Per noi è venerdì, però potrebbe anche essere sabato. Va bene, sto scherzando naturalmente, del resto che io sia bollito. È evidente, diciamo, anche per varie ragioni contingenti. Detto questo, Primo Canale sarà alla festa di Santolcese, prenderemo naturalmente tutte le dichiarazioni e ne daremo conto sul nostro sito e ovviamente in diretta. Per quel che riguarda Armando Sanna ha un unico, ovviamente, compito, quello di non far mancare mai il salame, poi per il resto, insomma, tutto si fa, no? Quello lo sa che nella patria del salame quello non mancherà, grazie a Primo Canale, perché da domani dà voce, dà un'immagine a quella che è qualcosa, io dico sempre di bellissimo, che è proprio girare questi territori con queste feste dell'unità che comunque rappresentano un momento, anche a volte, come dire, un po' conflittuale fra le parti, ma un momento di dialogo e quindi si ritorna a far politica come piace a noi. Grazie Armando Sanna.